E' bella a tutti ragazzi, io sono Cure, sono Cure perché il canale d'ora in poi si chiamerà così, Cure, Cure Questo è l'inizio di una nuova serie ragazzi, vi ringrazio ancora perché siamo quasi a quota 80 iscritti Questo è l'inizio di una nuova serie che avevo pensato di chiamarla Cure vs Food, avete già capito, vero? Allora ragazzi, praticamente la sfida, pensavo di farla con Sistory, che ho, prepararmi un panino con tutta la merda che trovo E di finirlo, un panino a tre piani, ok? E di finirlo in un minuto, un minuto e mezzo, un minuto, un minuto, un minuto E se non riesco a finirlo appunto c'è la penitenza che sceglierete voi nei commenti Allora, oggi andremo a farci un panino, intanto tiriamo fuori il pane che è già qua Lo yogurt, guardate che buona che è, yogurt, vedo c'è scritto? C'è scritto 100% naturale agrumi di Sicilia Questo che dovrebbe essere tipo una specie di prosciutto che ho preso in Polonia Questi che sono i cosi dello yogurt Il ketchup E ovviamente per poi bere un attimo c'è il succo alla pesca Quindi, noi adesso andremo a fare il panino Subito Allora, aspettate che poi al massimo ci si vede tra poco Ok raga, siamo tornati Allora, guardate questo che faccio Vi dico subito che questo pane Sa di chimico C'è scritto che scari il 10 ottobre del 2015 Ok? Sa di chimico Allora, andiamo a prendere il nostro yogurt Andiamo a Porco mondo Andiamo ad aprire Che cazzo Ragazzi Ti provo una tecnica Non c'è problema E' scaduta sta merda Bene ragazzi Andremo a spalumare il nostro bello yogurt Sul panino Ok ragazzi Ok Ovviamente non è che lo posso ammettere tutto Cioè non voglio Cioè la sfida Finisce se O meno che O finisco il panino prima di un minuto Oppure finisco Il Oppure sbocco prima Quindi decidete voi ragazzi Allora Ho dato una bella spalmata di questo Poi Prestoso Ok ragazzi Abbiamo la nostra Il nostro prosciutto Ok Adesso ci diamo dentro di ketchup Ah vabbè ragazzi Facciamo del panino Facciamo a due piani Va che se no Due piani Io ho tempo 45 secondi Sì 30 secondi ragazzi 30 secondi di tempo Per due piani Allora ci sto mettendo su questi Che cazzo so Gli amaretti Sono amaretti A me manco piacciono gli amaretti Mi dico la verità Ok ragazzi Chiudiamo Pressurizziamo Per chi non ci crede Guardate se guardate Se guardate ragazzi E' tutto Qua dentro Tutta sta merda Allora aspetta Prima 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 20 a bere Latte e coca cola Insieme Mischiati Per te è caos Allora 30 secondi Da adesso 30 secondi Sono troppo pochi Per te è no ok ragazzi siamo tornati il video finisce qua sto di merda ve lo giuro su dio ragazzi sto per imitare sono molto di scorte che adesso vi faccio vedere un attimo quello che è successo questa mia postazione vedete ciao ecco qua tutto bordello ragazzi arriviamo almeno a 8 mi piace non sono più abituato a chiedere però per questa serie dovevo cominciare un po richiedere quindi mi piace almeno per questo primo episodio io lo ripeto nomino caos, nomino te, nomino te e caos devi bere il latte più coca cola insieme ragazzi questo è la prossima volta anche alla fine di questo episodio se il video vi piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale commentate e passate dalla pagina facebook e instagram che ogni video lo lascio nella descrizione quindi mi dite non di dove e ci si becca al prossimo video da chi ora è tutto via la rea